Ora si registrerà la conferenza. Per questo nuovo step didattico e io direi che facciamo come l'altra volta, iniziamo ovviamente a condividere lo schermo facendo vedere un po' di slide e vedere un po' di cosa andremo a parlare oggi, quindi i contenuti della lezione 2, poi vi farò vedere anche la pagina di lezione 2, avremo uno spazio, anzi lo facciamo quasi all'inizio, per i feedback da parte vostra, per vedere a che punto sono i lavori. Voi sapete che la scadenza per quanto riguarda la consegna del report 1 è stata prorogata al 3 marzo, mentre manterremo comunque la deadline prevista per il report 2 al 24 marzo. Vi renderete conto poi appunto che per quanto riguarda questa seconda parte, pur essendoci diverse informazioni di livello teorico che noi offriamo per la conoscenza, appunto per andare avanti nel progetto, da punto di vista pratico, cioè per quanto riguarda la consegna dell'output e il report di lezione 2, si tratterà essenzialmente di costruire un articolo di data giornalismo. Quindi questo è il report 2, ve lo anticipo già adesso. Nella prima parte, nello step principale, nello step iniziale, ovviamente era necessario comunque un po' prendere dimestichezza con il progetto, ci rendiamo perfettamente conto, ed era necessario soprattutto avviare in maniera efficace i contatti con le rispettive, con le scuole croate a cui voi siete collegati. Noi, come sapete, abbiamo parlato, insomma, abbiamo interloquito con diversi di voi, cercando di appianare e risolvere alcuni problemi di comunicazione che c'erano stati, magari ci sono ancora tra le scuole, adesso ci direte, assieme ai colleghi croati siamo sempre impegnati in questo. Quindi cerchiamo naturalmente di intervenire e di aggiustare il tiro nel caso appunto ci siano delle incomprensioni o delle comunicazioni non troppo, diciamo, repentine rispetto all'avvio, in realtà soprattutto rispetto all'avvio del progetto, quando si trattava appunto di conoscersi e di intraprendere appunto lo step 1 e scegliere insieme il progetto da monitorare. Quindi adesso condivido lo schermo e vi chiedo la cortesia di confermarmi, se vedete il mio schermo, perché adesso io non vi vedo, se qualcuno mi dice che è tutto ok. Ok, si vede. Ok, perfetto. Benissimo. Allora, la lezione 2 riguarda adesso, andando avanti nel percorso didattico, mentre la lezione 1 aveva come nome progettare, cioè progettare il disegno della ricerca di monitoraggio civico, adesso entriamo un po' più nel vivo di quelle che sono, come dire, le caratteristiche principali, le prerogative essenziali del progetto Scuola di Open Coesione, che è quello dell'analisi, della raccolta dell'analisi, del lavoro sui dati e anche della visualizzazione dei dati attraverso strumenti, tool online, disponibili online, di cui noi forniamo tutte le necessarie informazioni. Quello che andremo a fare oggi è questo, come vedete, partiremo appunto da chiedere appunto un feedback per quanto riguarda i vostri lavori, e poi entreremo nel vivo dei contenuti della didattica e della lezione 2, ripeteremo alcuni concetti che abbiamo detto all'inizio, sull'integrazione del percorso ASOC all'interno dei percorsi ordinari, percorsi didattica ordinaria, e poi alla fine chiuderemo con, come di consueto, con l'illustrazione di tutti i nostri canali di comunicazione e di contatto. Prima di procedere, quindi, avrei piacere appunto di fare un breve, brevissimo giro di tavolo, in cui chiederei a ciascuno di voi, molto semplicemente, come sono i contatti con l'altra scuola croata, e quali sono le criticità, non quelle che avete riscontrato, perché queste lo sappiamo, abbiamo cercato di risolverle, quelle nuove magari, su cui noi dobbiamo ancora intervenire, e appunto come stanno procedendo i lavori, sia per quanto riguarda, vabbè, la scelta del progetto che avete fatto tutti quanti, lo sappiamo, ma anche per esempio alcuni elementi come il logo unico, so che alcune scuole hanno proposto, sul nostro suggerimento di fare un logo unico, altri che, però questa proposta non è stata un po' recepita, diciamo così, dalla scuola croata, non fa niente, si va avanti lo stesso, senza problemi. Prima di questo feedback vi faccio vedere, non so se vedete adesso il mio pdf o no. Vediamo feedback. Ancora vedete feedback. Non sono feedback. Sì, sì, devo cambiare la condivisione un attimo solo. Perché volevo farvi vedere lo stato dell'arte per quanto riguarda la scelta dei progetti, perché adesso noi siamo in grado di avere una fotografia di tutti i progetti che voi avete scelto, che state monitorando, così ciascuno di voi si rende conto appunto come è la situazione generale, quali sono i progetti che ciascuna scuola, ciascuna coppia di scuola ha scelto. Allora. Adesso dovreste vedere tutto il mio schermo, giusto? Sì. Sì, disattiva il mio microfono. Ok. Mi sentite, mi vedete tutto lo schermo e vedete adesso un pdf in visualizzazione, giusto? Sì. Ok, qui c'è la fotografia delle scuole, come dicevo all'inizio, per chi si è collegato più tardi, la coppia di scuole formate da Venezia e di Ugo Polie ha inunciato, non riesce ad andare avanti nel percorso, ha dovuto alcune criticità, in particolare la scuola di Venezia e poi anche l'altra scuola croata, mentre le altre coppie di scuole, come vedete, vanno avanti, procedono sul monitoraggio dei progetti che vedete scritti qui, che avete evidenziati qui. Quindi, Ancona e Dugaresa lavorano sul progetto Stream, Macerata 1, Altimuno e Opuzzen su Take It Slow, Macerata 2 e Zadar, cioè Zara, su Frame Sport, Pescara su Take It Slow, Guglionesi su Cascade, Termoli su Take It Slow e Barletta su Cascade. Quindi Take It Slow, diciamo che è il progetto più gettonato, seguito da Cascade e poi naturalmente c'è Stream e Frame Sport. Noi siamo contenti di questa scelta perché è molto variegata, quindi vi invitiamo a procedere naturalmente in questo solco, insomma. Quindi questa è la situazione generale appunto con l'abbinamento delle scuole che vedete con i progetti che state monitorando. e adesso tornando al feedback, adesso tolgo la condivisione perché vi vorrei vedere il punto di visu. Partiamo, non so, chi vuole partire insomma, facciamo un giro di tavolo così veloce, oppure chiamo io direttamente. Se volete faccio io. Ok, perfetto. Allora, molto velocemente, noi siamo chiaramente interfacciati con la scuola croata, con i referenti, abbiamo concordato il progetto, c'erano state insomma varie proposte, alla fine la scelta è andata su Cascade perché è il progetto che coinvolge le coste pugliesi, quindi chiaramente essendo nei pugliesi insomma ci tenevamo a questa possibilità, almeno vediamo un attimo che cosa si fa per i progetti per la Puglia, no? E poi siamo andati avanti, c'è stata la creazione del logo, il logo è un logo unico, quindi stiamo lavorando, abbiamo iniziato un percorso con un esperto che abbiamo chiamato nella scuola di Baralletta per quanto riguarda l'analisi di Open Data e quindi stiamo lavorando, stiamo finendo insomma il discorso del report della lezione 1, penso che insomma, non penso, inoltre dovremmo finire tutto quanto. Perfetto. Quindi insomma il lavoro procede abbastanza... Ottimo, davvero grazie, grazie anche per questa informazione sul contatto con l'esperto, che è un'ottima cosa, è un logo unico e ecco, ribadisco quello che lei ha già appunto accennato, gli chiediamo la cortesia di rispettare almeno la data del 3 marzo per la consegna del report 1, questo sì. Chi vuole prendere la parola successivamente? Allora chiamo io, andiamo da giù a su, allora facciamo la scuola di Termoli, vedo il professor Squeo, giusto? che però forse in questo momento è... Vabbè, non so Carmela se vuoi dirci qualcosa, si è su Termoli che è su guglionesi, Carmela, Europe, Dive, Molise, non ti sentiamo però. E forse è un problema che anche l'altra volta avevamo, sai? non riusciamo a sentirti. Se puoi utilizzare la chat, in alto a destra c'è un'iconcina dei fumetti con la chat, così magari ecco, ok, scrivi e nel frattempo noi andiamo avanti nel giro, così ecco. Allora, Pescara, l'istituto di Tito Acerbo, prego. Sì, buonasera a tutti, e bentrovati. Dunque, noi abbiamo condiviso con la scuola croata la selezione del progetto, e quindi è Take It Slow come altre due scuole. e abbiamo anche condiviso con loro un logo e il nome del team che ha incontrato, diciamo, la loro adesione. Quindi dovrebbe essere comune. Ecco, io dico dovrebbe, perché poi noi abbiamo fatto un meet dove c'era anche Annalisa Michetti di Europe Direct con la referente croata e praticamente, mentre, diciamo, il nostro team, sia i docenti che gli studenti erano presenti, visibili. Per quanto riguarda la scuola croata, c'era solo la collega e c'erano forse un paio di ragazzi presenti che però non hanno risposto neanche con il video. E da quel momento non abbiamo avuto più nessuna notizia. Ecco, stamattina io ho ricevuto una mail da parte della collega che mi chiedeva se la mail del nostro team fosse la stessa. Quindi, un'alunna del nostro team, Francesca, ha risposto che la mail comunque la devono creare loro perché l'estensione ovviamente per noi è Italia, per loro è Croazia, insomma, per cui la devono creare. Pare che l'abbiano capito. Però ecco, da quel momento diciamo sono... Allora, professoressa, sì, ha ragione. Noi abbiamo parlato, ci siamo confrontati diverse volte, mi sono confrontato diverse volte con i colleghi della Croazia. Loro hanno ben presente la situazione della scuola di Spalato, giusto se non sbaglio? Sì, esatto, esatto. Adesso continuerò naturalmente a sentirli, cerchiamo di... Eventualmente, se necessario, io proporrò allo staff Croato di fare proprio un incontro dedicato ulteriore con la professoressa di Split per affinare un po' di alcuni aspetti. Temo che lì la questione sia attinente proprio al carattere della professoressa, io non vorrei entrare troppo dentro al modo di operare della professoressa, anche perché a questo mi hanno riferito i colleghi della Croazia. Quindi si tratta di alinearsi ancora, lo faremo ovviamente, con gli studenti in particolare, per ovviare alcuni misunderstanding che ci sono stati. Io so per certo, nel senso che ho interloquito con lo staff Croato, che i colleghi croati hanno più di una volta, diverse volte, sono interfacciati con la professoressa Tvorik, mi sembra, una cosa di questo tipo. Sì, Sì, Diana, Diana. Diana, per spiegarle meglio alcune dinamiche, diciamo così, che sottostanno al progetto e quindi io sono convinto che le cose miglioreranno sicuramente, anzi, in brevissimo tempo. Quindi la tengo informata per la professoressa, se lei ha altre notizie, naturalmente. Sì, 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 ma io, ecco, quando dicevamo, c'è anche un po' il problema della lingua, che noi non riusciamo sempre a capire, però, diciamo, cerchiamo di interpretare e come oggi le abbiamo risposto. Però, ecco, nei nostri confronti è stata abbastanza disponibile, diciamo, le idee che le abbiamo presentato hanno incontrato il suo favore, noi le abbiamo più volte, insomma, ribadito la nostra disponibilità ad affiancarle. E proprio per questo ci sembrava, magari, più facile per i ragazzi croati interfacciarsi con i nostri, insomma, vai passando un po', come dire, la nostra autorità, la nostra presenza. Però, ecco, sono spariti, quindi non ha... Però, non del tutto, perché stamattina ho ricevuto questa mail. Ok, allora, adesso io contatterò ancora, lo spavolato, per chiedere, naturalmente, informazioni. Nel frattempo, professoressa, voi procedete, perché questa è una cosa che vale per tutti, ovviamente, in particolare da adesso in poi, cioè il secondo step, il terzo step, vengono svolti, soprattutto questi in autonomia, quindi, i vostri team, i vostri ragazzi, in lingua italiana, procedono a realizzare questi step, insomma. E quindi, ci saranno gli scambi, ovviamente, con l'altra scuola, a titolo informativo, per sapere come saranno delle cose anche dall'altra parte. Però lo scoglio principale era appunto la parte principale, ora sta a loro, ovviamente, fare la stessa cosa. Noi adesso premeremo affinché questo accada nel migliore dei modi, ovviamente. E intanto leggo il messaggio che ha scritto Carmela in chat per quanto riguarda le scuole di Guglionesi e di Termoli, vedo anche la professoressa Onesi collegata, buon pomeriggio, riassumo io, perché stiamo andando avanti con un brevissimo giro di tavolo sulla situazione in un stato dell'arte, e dice Carmela, le scuole molisane, Termoli e Guglionesi hanno individuato i progetti di comune accordo, prendendo come punto di riferimento progetti che comunque impattano sotto il loro molisano, in quanto ci sono partner molisani, di partner molisani. Abbiamo avuto problemi con i loghi, e poi alla fine, almeno su Guglionesi, abbiamo optato per due loghi distinti, con la dicitura IT e CR, comunque questo va bene. Su Termoli abbiamo avuto problemi sul modo di operare dei colleghi croati, ma alla fine si sta procedendo. Noi conosciamo anche queste problematiche, abbiamo preso contatti con i partner molisani di due progetti, l'Università del Molise e la Regione Molise si sta procedendo. Non so se la professoressa Onesi vuole aggiungere qualcosa a riguardo. Prego. Tanto scusate per il ritardo, ma non riuscivo a collegarvi, avevo mandato un messaggio. Ecco. La situazione è questa, noi stiamo procedendo, insomma, anche con competenza, diciamo, perché abbiamo già fatto questa esperienza, però troviamo delle difficoltà di rapporto proprio con la scuola partner. Non so se questo è già emerso nel corso di quello che insomma vi siete detto prima. Non siamo riusciti ancora avere la possibilità di avere una classroom con tutti i ragazzi, come abbiamo già fatto l'anno scorso, in modo che possano collocare tra di loro. E quindi questa, diciamo, è una difficoltà che ci ha un po' rallentato. Allora, su questo, Anna, naturalmente sentiremo, sentirò un'altra volta, perché io li ho sentiti, per quanto riguarda la scuola di Carlo Vazzi, in questo caso, i colleghi croati, per chiedere di avvantaggiare un incontro in, no, online tra gli studenti. Questo è l'obiettivo, ok. Perfetto. Però nel frattempo comunque procedete, ecco, sul monitoraggio, sul lavoro. Però i ragazzi, insomma, vorrebbero avere anche questa disponibilità della scuola partner, insomma, dei loro colleghi. Certo, certo. Segnalo ancora questa cosa, vi tengo, naturalmente, tengo tutti informati. Ok, grazie. Andando avanti, non so se c'è collegato o non, vedo, Guglionesi, no? Va bene, comunque, ha fatto la sintesi. Carmela, e su Macerata, professoressa Morresi, ma anche Polloni. Prego. Sì, siamo io, Margherita Polloni, e poi Valentina Secondini di Europe Direct. Europe Direct. Abbiamo sempre, abbiamo sempre lavorato, diciamo, in sintonia anche con i croati, perché abbiamo avuto subito un incontro in cui abbiamo, con le due scuole, parlo in comune, perché abbiamo deciso quale poteva essere, appunto, il progetto. Una volta scelto il progetto, abbiamo messo in contatto i ragazzi con le singole scuole, i ragazzi dei due team con le singole scuole, e quindi i ragazzi si sono confrontati sul logo, sul nome, hanno concordato, diciamo, hanno deciso di comune accordo quale poteva essere, quindi abbiamo scelto un, ogni team ha scelto un logo e un nome in comune con la scuola croata. Devo dire che la scuola di Zadar è un po' più attiva, la collega è molto, insomma, trainante, anche se in questa settimana loro sono stati fermi, quindi c'è stato un po' di, sì, di stasi, però nel frattempo i nostri ragazzi hanno prodotto tutto quello che era necessario caricare sulla loro pagina, e quindi penso che a giorni, ecco, tra domani e dopodomani riusciranno a caricarlo. E la scuola di Opuzzen, Opuzzen, lo stesso, abbiamo lavorato in sintonia, abbiamo concordato il progetto, eccetera, ed è un po' meno presente rispetto a Zadar, però non ci sono stati problemi né inciampi fino a questo momento. La nostra ricerca non è andata molto avanti, perché per loro i ragazzi si sono fermati a quelli che erano i compiti a casa di questo primo step. E appunto abbiamo avuto il supporto sia di Valentina, sia comunque, insomma, di Europe Direct della marca di Camerino. Quindi stiamo abbastanza tranquilli, non so se Margherita e Valentina vogliono aggiungere qualcosa. Grazie. Se no, procediamo. Ok. Va bene, grazie, grazie Rita. La scuola di Ancona, il Volterrelia. Prego. Allora, salve, intervengo io. Allora, io, i nostri ragazzi, diciamo, mi sembra che siano a buon punto. All'inizio noi non abbiamo mai avuto problemi a interfacciarci con la scuola di Dugaresa e anche i ragazzi sono, i nostri ragazzi sono in contatto con i studenti croati su WhatsApp quasi quotidianamente. So che si scambiano, insomma, informazioni, si sentono, non dico, ecco, quotidianamente forse è una parola grossa, ma si sentono spesso. Di comune accordo hanno deciso il, sia il logo che il, che il nome da dare al gruppo, hanno fatto per, per maggioranza, hanno messo a votazione, avevano entrambi presentato due, due logo e due, due nomi, insomma, poi si è optato per un compromesso per cui diciamo che l'idea del logo è croata e il nome è italiano. Però ecco, noi in realtà dopo, con i, con i nostri colleghi croatici siamo interfacciati solamente un paio di volte perché poi il lavoro lo stanno portando avanti i ragazzi stessi. E questo va benissimo. Ecco, infatti non, non so se c'è necessità che ci dobbiamo rincontrare con i colleghi croati perché Se i ragazzi si incontrano e fanno un ottimo lavoro e questa è la ragione proprio del progetto e va benissimo. Eh, noi insomma li facciamo supervisionate ovviamente i loro lavori, certo, certo, ma laddove c'è questa sintonia tra i due team ovviamente poi ci saranno anche i docenti dell'altra scuola che stanno lì appunto a continuare. Sì, si collaborano, sì, c'è una docente Sarà necessario magari un momento intermedio più avanti, no? Eh, magari subito partita la lezione 3, no? Per vedere un po' a che punto si sta. Ecco, questo è un consiglio che do a tutti eh, oltre naturalmente a riallinearci a dove ci sono delle criticità come Karlovac, Split e opuse ma in maniera inferiore però ecco più avanti a tutti quanti rivolgo l'invito di poi insomma di fare un incontro con i docenti referenti dell'altra dell'altra scuola e anche con qualche rappresentante degli studenti insieme cioè questa è l'idea Sì, 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 sì fare questo incontro dove appunto poi se serve anche la nostra presenza ce la fate sapere noi cerchiamo di essere presenti e in questo caso ma scriveteci email o anche in chat voi sapete che è una chat attiva e sentiamoci su questo Ok, grazie grazie mille grazie procediamo allora con la disamina dei contenuti della lezione 2 ripeto cerchiamo di stare dentro l'ora quindi alle 15.30 se siete d'accordo chiudiamo anche perché i feedback cioè i riscontri li abbiamo ricevuti adesso siamo sempre disponibili via email in chat voi lo sapete ormai quindi se ci sono domande specifiche sulle lezioni 2 magari non abbiamo tempo oggi un messaggio in chat un'email siamo sempre a disposizione ovviamente quindi ricondivido il mio schermo le slide che adesso dovreste vedere e procediamo un'email un'email questo per quanto riguarda il docente di supporto e questo per quanto riguarda il profilo team class che tutti avete attivato mi confermate se qualcuno non l'ha ancora fatto ci possiamo sentire anche separatamente per ulteriori per un aiuto per un aiuto ulteriore però credo che l'abbiate fatto tutto anche perché siamo nell'imminenza della consegna del report 1 quindi non mi dilungherei su queste informazioni che trovate comunque nelle slide che saranno comunque messe a disposizione a seguire come anche la registrazione di questo webinar nella pagina di lezione 2 del percorso ASO-PTC Italia Croazia siamo nel secondo step che come dicevo prima si chiama analizzare analizzare vuol dire che dopo aver progettato la ricerca scelto il progetto da monitorare capito quali sono i primi dati di prime informazioni e i soggetti che sono coinvolti non il progetto che avete scelto di monitorare adesso si tratta di andare un po' più a fondo per esplorare analizzare visualizzare i dati e le informazioni che sono state raccolte e che continuerete a raccogliere che dovrete ancora raccogliere in questa seconda fase è una fase che a me sta particolarmente a cuore essendo giornalista perché si che dà tutta una serie di strumenti di informazioni e anche dei consigli dell'epidolo molto utili che noi vi invitiamo a utilizzare anche nella didattica ordinaria voi poi capirete perché per quanto riguarda la comunicazione il giornalismo come si scrive un articolo quali sono le tecniche di visualizzazione dati per un articolo di data giornalismo tutte informazioni che possono tornare molto utili anche per la crescita personale diciamo dei ragazzi che partecipano al progetto come sempre qui vediamo quali sono gli step i passi che noi compiamo per ogni step didattico il webinar odierno che sarà seguito da una lezione in classe da parte vostra classe online con i vostri studenti con il vostro team per arrivare alla fine alla consegna dei compiti a casa quindi dei report di lezione 2 qui trovate riepilogato il calendario delle attività siamo di 27 febbraio come vedete la deadline della lezione 1 è stata prorogata a 3 marzo mentre la scadenza per quanto riguarda la consegna del report di lezione 2 noi tenderemo a confermarlo per il 24 marzo sappiamo che c'è stato la proroga l'abbiamo concessa per vari motivi in particolare per uno stop soprattutto per quanto riguarda le scuole croate dovute alle festività di carnevale adesso cerchiamo di riallinearci per rispettare queste date per arrivare appunto mese per mese alla consegna di ciascun report per quanto riguarda la didattica i contenuti della lezione 2 qual è il punto di partenza il punto di partenza è esattamente il punto di arrivo della lezione 1 cioè il vostro dossier di ricerca si parte da quello che avete fatto al termine della lezione 1 cioè a tutti i dati e informazioni che avete raccolto perché adesso questi dati e queste informazioni hanno bisogno di essere raffinati come si dice in gergo cioè puliti ripuliti controllati analizzati e anzi possibilmente questo è uno degli obiettivi proprio di lezione 2 visualizzati attraverso strumenti metodi e tecniche di quella che si chiama data visualization la visualizzazione dati che sembra molto complicato in realtà è molto semplice perché ci sono degli strumenti molto efficaci e anche molto divertenti da utilizzare che che aiutano appunto a raccontare i dati in un articolo giornalistico e visualizzarli sotto forma di infografiche infografiche dove anche dinamiche dove cliccando appunto in un determinato punto cambiano i dati e le informazioni che si possono visualizzare ecco perché appunto la lezione 2 consisterà in questi in questi argomenti cioè esplorare raffinare i dati raccolti analizzare i dati visualizzare i dati raccolti appunto in grafici e infografiche ma anche continuare come dicevo prima a raccogliere altri dati altre informazioni abbiamo visto nell'elezione 1 cosa sono i dati secondari cosa significa raccogliere dati da fonti terze da fonti diciamo istituzionali cioè dati che stanno lì e noi li prendiamo e raccogliamo qui vi daremo ulteriori suggerimenti per come per raccogliere ulteriori dati in prima persona cioè i dati primari attraverso metodi di ricerca sul campo interviste questionari sono i due metodi diciamo classici principali per quanto riguarda la ricerca sul campo che voi potrete attivare in questo secondo step quindi si parte dai dati che sono stati trovati in particolare su fonti voi avete lavorato su fonti interreg fondamentalmente quindi delle schede progetto interreg dai link che vi avevano già fornito gli esperti interreg a proposito apro una parentesi i nostri esperti gli esperti dell'autorità di gestione del segretariato congiunto del programma interreg Italia Croazia sono sempre a vostra disposizione per quanto riguarda dettagli informazioni specifiche relative al progetto che state monitorando io al termine di questo webinar tra oggi e domani invierò un resoconto quello che vi ho fatto vedere prima sullo stato dell'arte e sulla selezione dei progetti monitorati e quindi gli esperti non so se qualcuno di voi li ha contattati saranno a conoscenza dei progetti che state monitorando vi invierò un ulteriori email in cui vi fornirò nuovamente le email i contatti email degli esperti del segretariato congiunto del trattato di gestione che potrete contattare per chiedere ulteriori informazioni sui progetti che state monitorando i dati si prendono da lì i dati si prendono anche da open coesione andate a vedere il sito open coesione .gov.it e i dati si prendono anche da una piattaforma che racchiude tutti i dati dei programmi interreg che si chiama keep.eu piattaforma che già conoscete perché la maggior parte dei dati li avete già sicuramente presi da lì e poi da altri da altre fonti di dati che potrete andare appunto a ricercare raccogliere nella vostra ricerca oltre a questo quando si scrive un articolo di data journalism e quindi quando si approfondisce l'argomento cioè quando si mette le mani in pasta nei dati e ci si sporca un po' le mani con i numeri con i dati ci si dovrebbe un po' sensibilizzare maggiormente su quello che è anche il contesto entro cui la nostra ricerca si muove per esempio state osservando un progetto che riguarda la biodiversità marina allora ovviamente prendete dati e informazioni sul progetto specifico ma magari ci saranno altri dati altre informazioni di tipo statistico a livello europeo trasfrontaliero ma anche a livello nazionale ovviamente che ne so dati del ministero dell'ambiente gli ispra eccetera o di altri istituti che si occupano per esempio della materia appunto della biodiversità marina è un esempio per quello che faccio per vedere qual è il contesto e dove in quale contesto si va a inserire il progetto che state monitorando vediamo alcuni riferimenti qui i dati di istat noi italia i dati del benessere ecosolidale il bes sempre istat o altri dati e informazioni che possono essere utili ai vostri fini su questo naturalmente vi potrà essere utile sicuramente il supporto delle reti europe direct che sono qui presenti che quindi collaborano con alcune non tutte le scuole che partecipano a questa iniziativa a questo progetto che continuiamo sempre a ringraziare per la loro preziosissima collaborazione ma anche gli esperti come dicevo prima dell'autorità di gestione e del segretariato congiunto i dati che vanno qui che troverete in questa seconda fase vanno puliti raffinati e troverete informazioni nella pillola 1 analizzati e vedremo anche la pillola 2 appunto in cosa consiste e visualizzati attraverso strumenti di visualizzazione dati e altre tecniche che sono davvero molto molto importanti da apprendere e da utilizzare non soltanto per questo progetto ma anche in altri ambiti professionali futuri ecco questo è un messaggio che vi chiedo anche di rivolgere ai vostri studenti e alle vostre studentesse che quello che loro imparano e acquisiscono a livello di conoscenza e di informazione dall'offerta didattica del progetto a scuola di open inclusione può sicuramente essere utile un domani in altri ambiti per la loro crescita ecco di studi e anche professionale ecco quindi quali sono gli step di lezione 2 cioè le pillole è diviso in 5 step e adesso le vedremo nello specifico facendo una navigazione guidata della lezione 2 quindi raffinare i dati analizzare i dati visualizzare i dati i dati primari come raccoglierli e entriamo dentro l'argomento del data journalism che cos'è il data journalism cosa significa fare giornalismo di precisione giornalismo di dati e quali sono appunto i principali esempi a livello nazionale internazionale di data journalism in più in più vi regaliamo anche un paio di brevi interviste effettuate a un data journalist che si chiama Alberto Pugliafito che ha creato anche il portale di slow journalism giornalismo lento cioè giornalismo di approfondimento che dà tutta una serie di informazioni davvero molto molto interessanti sul tema del giornalismo di dati del giornalismo slow ma anche di dove sta andando il giornalismo in generale insomma qual è la situazione nello stato dell'arte e l'immediato futuro che ci aspetta per quanto riguarda il giornalismo queste sono delle interviste appunto che vi consigliamo di vedere e di far vedere ai vostri studenti e alle vostre studentesse come sempre la pagina di lezione si trova nella sezione didattica alla sottosezione ASOC ITC e troverete appunto tutta la pagina di lezione 2 che però voglio farvi vedere in diretta confermate che vedete anche adesso il sito si 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 vediamo ok benissimo e quindi la didattica ASOC ITC cliccando qui troverete il bottone della lezione 2 analizzare cliccando sul bottone di lezione 2 trovate come di consueto la pagina che presenta appunto le 5 pillole di lezione 2 con accanto il box che ricorda la scadenza del 24 marzo 2023 la scaletta che si può naturalmente scaricare in pdf cliccandoci sopra trovate tutte informazioni molto utili che molto sintetiche anche su cos'è cosa sono gli obiettivi cosa sono contenuti appunto cosa contengono le pillole di questa lezione 2 e gli homework cioè cosa far fare agli studenti per consegnare il report di lezione 2 essenzialmente il report di lezione 2 come dicevo prima consiste nella redazione di un articolo di data journalism corredato da una o due infografiche questo è l'obiettivo di report di lezione 2 e quindi trovate appunto le informazioni i consigli su come procedere per compilare il report di lezione 2 nella sezione homework come vedete le 5 pillole sono fatte come anche nella lezione 1 da delle video pillole con accanto le slide che si possono scaricare in questo caso video pillole della durata di 5-6 minuti come raffinare e anche analizzare i dati sono video pillole molto brevi procedo quindi velocemente visualizzare i dati contiene più informazioni una video pillola un set di slide che vi fa vedere quali sono gli strumenti di visualizzazione dati che potete scaricare in slide direttamente anche qui ecco trovate insomma tutte le informazioni nelle slide che sono scaricabili accanto in più vediamo un altro paio di suggerimenti tecnici su come utilizzare i due principali strumenti online che consigliamo di utilizzare per realizzare grafici e infografiche uno si chiama Canva che è questo vedete qui insomma sono sette semplici slide che che vi danno un po' consigliano come utilizzare Canva Canva è un software un applicativo davvero molto semplice di grafica fondamentalmente che ben si adatta per esempio alla creazione di grafiche di grafici infografiche di tipo statico cioè semplicemente si compone graficamente il format dell'infografica e poi lo si allega mentre Infogram è l'altro strumento che noi consigliamo di utilizzare che serve a realizzare infografiche di tipo dinamico cioè che vengono pubblicate su web e che si possono appunto navigare dinamicamente sono davvero molto semplici da utilizzare sono strumenti davvero semplici e potenti allo stesso tempo perché voi vi renderete conto che offrono una grandissima varietà di possibilità per realizzare grafici e infografiche semplicemente inserendo i dati e quindi come per magia voi andrete ad inserire dati informazioni che avete raccolto e troverete appunto tutta una serie di possibilità da questi dati di creare appunto le visualizzazioni dei dati e trovate tutte le informazioni su come fare data visualization appunto nella step 3 nella pillola 3 della lezione 2 la pillola 4 riguarda le tecniche di ricerca i dati primari anche questa è una pillola molto breve di 5 minuti con le slide a corredo che spiegano che cosa sono i dati primari cioè come si fa a raccogliere dati di tipo primario cioè come si fa a fare un'intervista efficace quali suggerimenti per realizzare un questionario fatto bene come si fa la ricerca sul campo eccetera eccetera quindi su tutta una serie di informazioni di consigli su come appunto raccogliere altri dati però questa volta in prima persona l'ultima pillola riguarda il data journalism trovate due video pillole sono di tipo teorico queste che racconta come è nato il data journalism cosa significa fare il data journalist qual è la differenza tra un giornalista di dati e altri tipi di giornalismo e quali sono appunto le evoluzioni del giornalismo di dati in più due una intervista divisa in due segmenti da dieci minuti ciascuno ad Alberto Pugliafito come dicevo prima invito davvero calorosamente a visualizzare a visionarle perché danno veramente l'idea di dove si sta andando dove siamo oggi per quanto riguarda il giornalismo di dati lo slow journalism e il giornalismo in generale e quindi questa questa pidola chiude l'offerta diciamo all'apparato didattico della lezione 2 tornando alle nostre slide che metto in visualizzazione nuovamente procediamo come anche l'altra volta per epilogare quali sono i vostri compiti ma ormai voi già lo sapete quindi non mi dilungherò molto su questo ovviamente sappiamo che dopo questo webinar sarà necessario da parte vostra innanzitutto chiudere il report di lezione 1 e poi organizzare un incontro con i vostri studenti il vostro team per illustrare i contenuti della lezione 2 alimentare il dossier di ricerca possibilmente l'asoc wall se lo avete fatto la bacheca dove aggiungere dati informazioni sul progress della vostra ricerca di monitoraggio civico e assegnare i compiti a casa in questa lezione 2 noi consigliamo anche laddove possibile non è assolutamente un obbligo è un consiglio di coinvolgere come per esempio ha fatto il professor Marano di Barletta della scuola di Barletta un esperto che possa supportare le scuole un esperto può essere ovviamente i referenti Europe Direct che sono qui presenti oggi può essere un esperto di open data come per esempio diceva il professor Marano o altri esperti altri professori di altre materie che possono dare un ulteriore mano un ulteriore spunto a quello che è il lavoro sui dati quindi può essere utile possono essere utili esperti che hanno a che fare appunto con la statistica con la matematica con l'informatica e insomma come si lavora sui dati come si analizzano i dati come si raffinano puliscono i dati attraverso un foglio Excel eccetera può essere utile quindi in questa fase coinvolgere un esperto e naturalmente andando avanti abbiamo già detto prima arrivare fino all'assegnazione dei compiti a casa che diventano un ulteriore tassello al progetto di ricerca di monitoraggio civico che state conducendo fino ad arrivare poi al termine del percorso fra poco più di due mesi con report finale tre mesi diciamo l'organizzazione dei compiti a casa ovviamente è la stessa dell'altra volta quindi momenti di confronto sull'avanzamento dei lavori ma voi supervisionate costantemente i vostri studenti in questo lavoro altre naturalmente altre possibilità di integrazione dei contenuti ASO che negli dati che ordinaria contenuti del progetto scuola di open coesione lo ripetiamo sono contenuti che rilasciamo in formato aperto e quindi sono riutilizzabili da voi anche in altri contesti chiedendovi possibilmente di citare la fonte questo è appunto uno degli altri patrimoni che il progetto scuola di open coesione dà a chi partecipa al progetto i homework i compiti a casa sono suddivisi come sempre in tre parti studio quindi vedere bene le 5 pillole didattiche della lezione 2 entrare dentro gli argomenti della lezione 2 quindi attraverso la visione delle pillole la consultazione dei documenti di supporto le slide che sono presenti in ciascuna pillola l'organizzazione del lavoro per creare appunto il lavoro di gruppo come è stato fatto e si sta facendo per la lezione 1 e alla fine consegna descrivere quello che viene fatto attraverso il report di lezione 2 i compiti a casa che ripeto in questa e per questa lezione consiste essenzialmente nella redazione di un articolo di data giornalismo studiare ovviamente si fa attraverso appunto la visione della pagina di lezione 2 come abbiamo visto adesso sul sito scuola di open coesione punto it organizzare si fa attraverso l'organizzazione del lavoro di gruppo degli studenti attraverso naturalmente il vostro coordinamento e la redazione dell'articolo di data giornalismo e poi consegnare il report di lezione 2 come anche il report di lezione 1 il report di lezione 2 sarà suddiviso in 2-3 blocchi il primo blocco dove si riporterà il testo dell'articolo l'altro blocco dove si inserisce l'infografica fondamentalmente l'infografica statica e il terzo blocco l'infografica dinamica parlo di blocchi perché voi avete chi è già entrato chi ha già avuto in modo di vedere come nella piattaforma web come si compila il report 1 è fatto per blocchi appunto per segmenti per moduli da compilare in cui inserire le informazioni quindi per chi avesse ancora dubbi su come si compila un report può naturalmente sempre scriverci e noi rispondiamo in maniera dettagliata step by step per come compilare un report ribadiamo qui che la scadenza è il 24 marzo per la lezione 2 il 3 marzo per la lezione 1 e non vediamo l'ora che voi consegnate già i lavori di lezione 1 per vedere visualizzati i vostri blog dei vostri team quindi con il logo con il nome eccetera nella sezione scuole e ricerche del sito a scuola di open coesione qui c'è un esempio su come si accita il profilo team class il report era preso un esempio dal report di lezione 1 però è davvero molto semplice sono procedure guidate nella piattaforma dove viene ribadito appunto quali sono i compiti da fare e bisogna semplicemente seguire le indicazioni che sono scritte nei moduli da compilare questa è una slide riepilogativa riassuntiva di quello che appunto è richiesto in questa fase e qui ribadiamo ancora il nostro ringraziamento per il supporto alla rete Europe Direct e ai centri di documentazione europea che collaborano con il progetto scuole di open coesione da tantissimo tempo che anche in questa avventura dell'Aso KTC Italia Croazia sono a fianco di diverse scuole e sono presenti anche nei nostri webinar contattateli eh disturbateli eh loro sono sempre disponibili per fornirvi il massimo supporto come stanno già facendo eh in maniera sempre molto molto efficace chi vuole può contattare anche ulteriori eh realtà associazioni organizzazioni non profit che si occupano dei temi che state affrontando ma il consiglio come vi dicevo prima è di contattare soprattutto gli esperti del programma Interreg Italia Croazia che possono essere utili nello specifico a darvi proprie informazioni dettagliate sul progetto eh che state monitorando ASOC può essere inserito nei percorsi di alternanza ex di IPCTO ex alternanza scuola lavoro secondo le informazioni che abbiamo già dato nel webinar precedente per cui non mi dilungherei su queste slide solo per farvi vedere appunto quale può essere una combinazione possibile e specificare che a scuola di open coesione non può essere eh il nostro il nostro dipartimento noi della presenza del consiglio quindi progetto scuola di open coesione non può essere il il soggetto partner della convenzione e quindi la convenzione potete farla con chi volete in alcuni casi è stata fatta anche con alcuni centri di Europe Direct dove appunto eh c'è stata disponibilità delle parti eh per realizzare appunto un progetto di IPCTO un patto per patto formativo nell'ambito del IPCTO qui trovate alcuni esempi di combinazione di 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 patti formativi che si possono stipulare per far rientrare l'impegno diciamo il percorso scuola di open coesione che vedete suddiviso qui in alcune in attività e app da produrre all'interno appunto di percorsi di IPCTO ripeto trovate tutte queste informazioni nelle slide che saranno legate poi a partire da domani o dopo domani nella pagina di lezione 2 assieme alla registrazione di questo webinar eh per quanto riguarda la formazione docenti eh saremo noi a procurarvi la certificazione dei crediti formativi che potete potrete caricare nella piattaforma Sofia nella sezione extra credo se ci sono anche qui ehm difficoltà da questo punto di vista fatecelo sapere ma tutti i docenti e anche tutti i referenti delle reti territoriali che partecipano a questi webinar in diretta questa è un'altra cosa importante da sottolineare ehm perché noi diamo i crediti formativi a chi partecipa ai webinar in diretta eh perché sono comunque tracciati quindi abbiamo le presenze possono naturalmente far valere appunto questi crediti nella piattaforma Sofia per un totale di venticinque ehm o crediti formativi venticinque crediti formativi le competenze in uscita che vengono certificate dal percorso ASO sono queste politiche di coesione trasparenza cittadinanza globale cittadinanza digitale e cultura statistica qui vedete un altro messaggio riferito a quello che vi ho detto poco fa cioè la visione delle registrazioni dei webinar cioè indifferita non concorre all'accumulo di ore formative per ricevere la certificazione quindi la spiegazione la sapete già eh i nostri canali di contatto li conoscete li ripetiamo qui davvero molto velocemente il sito che è appunto il contenitore principale di tutte le informazioni relative al progetto a scuola di open coesione al mondo di a scuola di open coesione alla sua community alla rete che anima il progetto che è a scuola di open coesione punto it la nostra email istituzionale ma voi usate e fate bene l'email personale mia e quella di Nora della mia collega e continuate a fare così in particolare per ASOC e ITC Italia Croazia abbiamo la community facebook la pagina facebook scusate che è appunto a scuola di oc mettete like sulla pagina facebook come si dice iscrivetevi anche al gruppo facebook lo trovate facendo una ricerca semplice su facebook scrivendo ASOC community oppure cliccando direttamente su questo link che vedete e potete accedere a una comunità al gruppo facebook di ASOC è un gruppo chiuso noi diamo l'accesso ovviamente a chi ce lo richiede approviamo la richiesta e potete far parte appunto del gruppo facebook dove trovate appunto degli aggiornamenti costanti sulle attività del progetto scuola di open coesione su tutto il mondo delle politiche di coesione dell'interreg e della della trasparenza e del governo aperto degli open data tutto ciò che ha a che fare appunto con con la materia viva gli argomenti portanti del progetto scuola di open coesione dell'iniziativa madre open coesione abbiamo naturalmente anche un profilo twitter seguiteci anche su twitter anche su instagram ovviamente qui diciamo che abbiamo anche un canale telegram il canale telegram è utilizzato soprattutto per le scuole che stanno seguendo il percorso in lingua italiana il percorso ASOC diciamo mainstream a questo sopperisce il gruppo chat whatsapp che abbiamo creato voi sapete quindi fate riferimento a questo ovviamente che è quello nostro ok su cui noi comunichiamo direttamente tra di noi specificamente su sull'indirizzo itc italia croazia noi siamo disponibili anche in mercoledì mattina giovedì pomeriggio in questa fascia oraria mercoledì mattina 11.13 giovedì pomeriggio 15.17 a un centralino web quindi ci sarà sempre qualcuno che risponde a quell'ora se avete bisogno di parlare con qualcuno insomma di noi ovviamente del team per dubbi informazioni trovate ci trovate a questo centralino esclusi i giorni in cui vengono effettuati i webinar come per esempio vi dico già giovedì prossimo non saremo presenti perché c'è un webinar dedicato al webinar formativo per i docenti che seguono il corso formativo statistica più dedicato alle scuole che seguono ASOC il percorso didattico in italiano queste sono le email di cui parlavo prima la mia è quella di Nora che voi già conoscete scrivete qui appunto per tutte le richieste di informazioni e dubbi e con questo siamo riusciti a concludere alle 15.28 come promesso entro l'ora che vi avevo vi avevo promesso insomma di entro qui avremmo chiuso ecco quindi questi sono i dati queste sono le informazioni e i contenuti della lezione 2 ricapitolando il tema è quello di entrare dentro un po' più l'aspetto comunicativo con un approccio giornalistico simile giornalistico per raccontare meglio i dati e le informazioni raccolte scrivendo un testo giornalistico breve ovviamente mettendo in evidenza quali sono gli argomenti salienti che volete portare in evidenza cioè cercando di capire quali sono tra le numerose informazioni dei progetti che state osservando quali sono le come dire i dati principali le informazioni che vi colpiscono di più che voi volete evidenziare e su quello lavorate per fare poi infografiche e grafici con l'ausilio degli strumenti che noi mettiamo a disposizione che vi illustriamo appunto nell'epidola didattica quindi è davvero semplice diciamo così il percorso della lezione 2 e riguarda essenzialmente appunto la creazione dell'elaborazione di un articolo di data giornalismo ecco io ho concluso c'è spazio naturalmente ditemi se ci sono domande o dubbi richieste di informazioni in chiusura sono qui è tutto chiaro spero ok quindi questo mi conforta prego Gianmarco scusi sicuramente ci sarà scritto nelle pillole però ho visualizzato nelle pillole volevo sapere l'articolo che devono produrre i ragazzi prevede un minimo di numero di parole come siete stati così precisi per i tweet non più di 200 la risposta è sì sarà indicata dentro il form di report direzione 2 che non è ancora non abbiamo ancora caricato in piattaforma vi darò informazioni voi dovete ancora consegnare il report 1 ecco perché noi preferiamo che prima consegnate il report 1 e poi vi diamo tutte le informazioni tra qualche giorno tra i quattro giorni o anche inizio la settimana prossima vi diremo è attiva anche la possibilità di compilare il report 2 così potete già vedere lì cosa è richiesto numero di battute cosa è richiesto a questo proposito può essere utile lo è sicuramente farvi vedere un esempio dell'anno scorso e mi permetti Anna prenderei l'esempio della scuola di Termoli che ha vinto l'anno scorso il percorso ASO-KTC e per far vedere appunto come viene come è costruito un articolo del giornalismo e per far vedere anche un po' come sono i vari report come vengono visualizzati poi sulla piattaforma di ASCOID Open Coesione i report pubblicati adesso lo vediamo subito e ricondivido lo schermo allora lo vedete? vedete sì? sì questa è per esempio la pagina del team di Termoli scusate ma rifaccio il percorso così faccio vedere come si cercano andate su scuola di ricerche consulta le ricerche qui trovate tutte tutti i blog e le ricerche fatti negli anni da tutti i team di ASCOID Open Coesione adesso io selezionerò l'anno precedente 2021-2022 arrivo la città così arriva direttamente il team che ha partecipato col logo unico come vedete in quel caso informazioni di tipo anagrafico diciamo così i social costruiti dal team che vengono messi qui un feed un wall un social wall che riprende le ultime gli ultimi post che sono stati fatti dal team e per esempio il report di lezione 1 quello che voi state facendo adesso che contiene appunto la descrizione del progetto che sarà visualizzato vabbè in maniera sintetica in questo modo raccontare la ricerca un breve video di presentazione e il canvas che voi sapete che si deve fare per quanto riguarda le lezione 1 il report di lezione 2 come vedete consiste in tre cubotti tre blocchi in cui il primo racchiude la parte testuale con un'immagine eccola qui la parte testuale dell'articolo di data journalism con anche l'indicazione delle fonti grafico e infografica statica in questo caso realizzata con canva per esempio oppure con infogram si può realizzare anche con infogram infografica statica e una infografica dinamica ovvero interattiva questa è sicuramente realizzata su infogram ecco la differenza questa è l'infografica interattiva come vedete che passando appunto cliccando si cambiano i dati e le informazioni che vengono visualizzate come vedete trovate questo tipo di queste sono infografiche che sono state costruite dal team attraverso appunto il strumento infogram come vedete scritto qua sotto quindi questo è un esempio di quello che è appunto un articolo di Data Journalism realizzato l'anno scorso e poi andando avanti troverete il report di lezione 3 se siete curiosi andatevi a vedere e il report finale di lezione 4 il pitch e l'elaborato creativo finale questo è il questi sono appunto i report che vi attendono appunto che saranno poi visualizzati nella sezione scuole e ricerche del sito scuola di open question chiedo scusa ma in italiano o in inglese perché io perché è tutto in inglese quello che ha fatto perché hanno scelto di farlo in inglese è una scelta è una scelta si l'obbligo diciamo dell'inglese è soltanto per il report finale congiunto vi ricordate l'abbiamo annunciato nel webinar introduttivo anche nella volta scorsa quello deve essere fatto obbligatoriamente in inglese il report finale congiunto però ovviamente se qualcuno di voi vuole oppure fare anche una parte magari non tutti i blocchi ma soltanto una parte un'infografica in inglese lo può assolutamente fare ok non è un obbligo perché poi ciascuno perché per esempio le scuole croate lavorano in croato e so che anche l'anno scorso hanno fatto il loro report alcune scuole in inglese ma la maggior parte in croato ok quindi dipende da voi da questo punto di vista se voi vi sentite in grado di poterli farlo in inglese benvenga perché l'inglese è la lingua ufficiale del programma Interreg Italia Croazia il motivo per cui il report finale congiunto quello finale vi chiediamo di farlo comunque in inglese è perché poi quello sarà un po' quello che guiderà le presentazioni finali no? e che vengono fatte comunque in inglese perché la lingua ufficiale del programma è l'inglese però per il resto il progetto prosegue come vi ho detto sempre in lingua italiana quindi non vi preoccupate per questo non inficia la valutazione ecco mettiamola così non è una ok è una facilitazione potrebbe essere una facilitazione per chi poi del programma no? prende e visualizza certe certe parti dei vostri lavori perché sono in inglese può essere una facilitazione per voi magari perché volete magari aggiungere anche questo livello di competenza agli studenti dipende da voi ovviamente dalla vostra capacità e disponibilità specifica ma non è assolutamente un obbligo ok bene se siete d'accordo noi ci risentiamo quando volete cioè nella chat via email per telefono che siamo sempre a disposizione vi ricordo che questa sessione la registrazione di questa sessione sarà pubblicata spero entro oggi nella pagina di lezione 2 che vi ho fatto appena vedere assieme alle slide che vi ho fatto appena vedere e credo che ce la farò proprio entro oggi e quindi potrete rivedere questa registrazione e anche le slide e teniamoci sempre in contatto per la chiusura del report di lezione 1 se ci sono problemi ci facciamo sentire io come dicevo prima contatterò i colleghi croati per far presente appunto le criticità evidenziate da voi su Karlovaz su Split su Oppusen anche se Oppusen mi sembra di aver capito che è semplicemente una diciamo procede esatto non è un problema finora abbiamo lavorato abbiamo lavorato insieme diciamo sentendoci un po' meno rispetto a Zagra però però sì sì il lavoro procede no no vabbè farò presente anche questo comunque così ci allineeremo e se necessario come dicevo organizziamo un incontro con Split ma anche con Karlovaz per un po' tutti insieme anche con i colleghi croati per cercare di allinearci un po' ok io questo è quello che proporrò alla Croazia ok e poi vi tengo informati e vi faccio sapere va bene intanto grazie grazie davvero per tutto per il vostro impegno e la vostra disponibilità sono davvero molto contenti ci troviamo moltissimo noi il programma Interreg la Commissione Europea a questa iniziativa voi già lo sapete insomma l'abbiamo detto in una fase di annuncio e lo ribadiamo anche qui quindi grazie ancora per la vostra partecipazione e ci sentiamo naturalmente quando volete prestissimo sui nostri canali di comunicazione quindi grazie ancora e buon proseguimento di giornata e a presto arrivederci 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 per la vostra partecipazione